ciao a tutti nella lezione di oggi vi mostro come potete usare questa palette qua per creare animazioni sui caratteri del testo in alternativa al range selector allora la palette come vedete si chiama text tool ed è una palette che ho creato io quindi se anche voi volete usarla dovete prima scaricarvela dal link che trovate nella pagina del tutorial e una volta scaricata prima dovete aprire il file zippato quindi doppio clic sopra a questo punto prendete questo file qui e lo trascinate nella cartella script ui panels che si trova all'interno della cartella script la quale si trova all'interno della cartella che contiene il programma after effects una volta fatto questo riavviate after effects e poi troverete questa palette nel menu window esattamente qui in fondo benissimo una volta aperta la palette potete anche prenderla e magari incastrarla a fianco alle altre palette qua sulla destra come sto facendo io adesso ecco fatto e lasciamola qui bene adesso come al solito andiamo nella timeline apriamo il contenuto del livello testo clicchiamo sul contenitore text e aggiungiamo una proprietà dal menu animate e anche in questo caso aggiungiamo la proprietà position bene con questa proprietà position creiamo una situazione iniziale magari questa volta spostiamo tutto il testo nella parte bassa della composizione e questa volta per far tornare le lettere una ad una nella loro situazione originale anziché usare il range selector che abbiamo qui usiamo appunto la mia palette text tool e per farla funzionare dobbiamo prima selezionare l'animator all'interno del quale vogliamo farla funzionare quindi selezioniamo animator 1 nella timeline e poi non dobbiamo fare altro che cliccare sul bottone animazione caratteri e vediamo subito cosa è successo innanzitutto all'interno dell'animator si è aggiunto un secondo selettore questo qui expression selector 1 ma non solo se mettiamo in evidenza la palette effect controls qui su in alto vediamo che si sono aggiunti anche quattro controlli che si chiamano ritardo animator 1 random animator 1 random seed animator 1 e durata animator 1 ed è appunto con questi quattro controlli che noi gestiremo l'animazione dei caratteri gli stessi quattro controlli oltretutto li troviamo anche qui nella timeline dentro il contenitore fx eccoli qua ritardo animator random random seed e durata e notate anche che il controllo durata ha già due keyframe tanto è vero che se noi facciamo una preview come vedete l'animazione che riporta le lettere nella loro situazione originale è già stata creata infatti tutto dipende dall'animazione che è stata fatta sul controllo durata il quale decide quanto tempo ci impiega la prima lettera a tornare nella situazione originale infatti vedete che se sposto il cursore da 0 fino al primo keyframe in questo lasso di tempo la lettera m è tornata nella situazione originale e i valori di questo controllo sono 100 all'inizio e 0 alla fine e in questo caso la durata dell'animazione è impostata in modo tale che duri mezzo secondo ma se per esempio noi allontaniamo il secondo keyframe lo portiamo a un secondo a questo punto l'animazione della lettera m durerà come vedete un secondo tutte le altre lettere la o la t la i eccetera eccetera hanno la stessa identica animazione con la stessa durata ma ognuna ha un ritardo rispetto alla lettera precedente e precisamente questo ritardo è gestito dal controllo ritardo animator questo qui che al momento come vedete è impostato a 4 cioè 4 frame di ritardo e se noi per esempio aumentiamo questo parametro per esempio lo portiamo a 15 adesso il ritardo tra la prima lettera e la seconda è 15 frame tra la seconda e la terza altri 15 e così via quindi tutto quello che dobbiamo fare per riportare il testo nella sua situazione originale decidere quanto dura l'animazione della prima lettera avvicinando allontanando questi due keyframe e quanto ritardo c'è tra le varie lettere impostando il valore del controllo ritardo molto semplicemente e questo è il caso in cui riportiamo le lettere allo stato originale dalla prima all'ultima lettera e se volessimo invece riportarle con un ordine del tutto casuale basta che attiviamo il controllo random animator 1 quindi proviamo a attivarlo cliccando su questo pulsante qui a questo punto se facciamo una preview come vedete le lettere tornano alla situazione originale con un ordine del tutto casuale non dalla prima all'ultima e se questo ordine qui non dovesse piacerci ne volessimo un altro diverso possiamo anche intervenire sul random seed che al momento è impostato su 100 basta cambiare questo valore e ad ogni valore che noi scegliamo corrisponderà una casualità diversa come ben si vede esattamente come avremmo potuto fare anche con il range selector bene adesso però spegniamo il bottone del random e se volessimo ad esempio far tornare il testo la situazione originale non carattere per carattere ma parola per parola allora dobbiamo aprire il contenitore di expression selector e anche qui come nel range selector abbiamo un menu che ci permette di lavorare anziché un carattere alla volta una parola alla volta se scegliamo la voce words e in questo caso come vedete l'animazione è prima motion e poi graphics e se usiamo anche la quarta voce lines l'animazione avviene su tutta quanta la linea contemporaneamente come potete vedere bene rimettiamo di nuovo sulla voce characters e chiudiamo questo expression selector quindi praticamente tutto quello che noi riuscivamo a fare con il range selector riusciamo a farlo anche attraverso il text tool però diciamo che in questo caso abbiamo un controllo più diretto sull'animazione dei caratteri cioè possiamo decidere noi esattamente quanto dura l'animazione di un carattere e anche esattamente quanto sia il ritardo fra i vari caratteri precisamente mentre invece nel range selector dovevamo impostare l'animazione totale di tutto quanto il testo mettendo due keyframe sulla proprietà offset e questo controllo diretto sull'animazione del testo ci permette per esempio anche di ammorbidire l'animazione molto più facilmente cioè se io per esempio voglio ammorbidire l'animazione nel momento in cui il testo arriva alla situazione originale basta che seleziono il secondo keyframe e con il tasto f9 ammorbidisco appunto questa animazione e volendo posso anche ammorbidirla a piacere con la palette controllo is is per esempio imposto un valore abbastanza alto intorno ai 70 se faccio una preview come vedete ogni lettera prima di fermarsi rallenta mentre invece nel caso del range selector avrei dovuto entrare nella sezione advanced e lavorare sul parametro easy low una cosa invece ad esempio che non riusciremmo a fare con il range selector e avere l'effetto molla sulle animazioni dei caratteri del testo cioè se tolgo l'is is a questo keyframe cliccandoci sopra mantenendo premuto il tasto control e seleziono il parametro durata animator e applico l'effetto molla a questa animazione quindi clicco qui come vedrete adesso l'animazione dei vari caratteri termina con un rimbalzo e in questo caso magari potremmo anche ammorbidire un pochino di più il rimbalzo magari abbassando la frequenza aumentando un poco lo smorzamento e aumentando magari anche un poco l'ampiezza riapplico l'effetto molla rifaccio una preview come vedete ho sempre un effetto molla un po più morbido e la stessa cosa naturalmente vale anche se aggiungo altre proprietà all'interno dell'animator per esempio selezioniamo l'animator 1 dal suo menu add aggiungiamo anche la scala e facciamo sì che al tempo 0 la scala delle lettere sia 0 rifacciamo la preview le lette partono piccole poi si ingrandiscono c'è il rimbalzo contemporaneamente sulla posizione e sulla scala e se vogliamo possiamo anche andare oltre e aggiungere dall'elenco delle proprietà anche la rotation e magari dagli un pizzico di rotazione iniziale magari 20 30 gradi magari potremmo anche velocizzare un poco di più l'animazione avvicinando il secondo keyframe e anche diminuire il ritardo che c'è fra le lettere portandolo da 4 frame magari a 2 frame così l'animazione è tutta un po più veloce proviamo e così forse ancora più interessante benissimo e se volessimo ad esempio invertire l'animazione cioè portare le lette dalla situazione originale alla situazione che abbiamo creato con queste proprietà in questo caso basterebbe soltanto invertire i due keyframe anziché avere l'animazione da 100 a 0 basta che noi invertiamo l'ordine dei keyframe quindi mettiamo il primo keyframe per secondo il secondo per primo e come vedete adesso l'animazione va al contrario all'inizio il testo si trova nella situazione originale e poi una lettera alla volta scende verso il basso si rimpicciolisce e ruota un poco facciamo una preview ok riportiamo di nuovo la situazione lo stato originale ultima cosa se volessimo avere entrambe le animazioni cioè prima il testo si sposta dal basso all'alto poi dopo un po di pausa torna di nuovo verso il basso non facciamo altro che prendere il cursore avanzare fino al momento in cui vogliamo far cominciare l'animazione inversa io direi più o meno qui poi aggiungiamo un altro keyframe con valore 0 e poi per ultimo un quarto keyframe che riporta il valore a 100 in modo che le lettere ritornano alla situazione creata con le proprietà quindi per aggiungere un keyframe uguale a quello precedente basta che noi clicchiamo qui sul simbolo dei keyframe poi avanziamo un poco nella timeline e adesso portiamo il valore di durata animator a 100 per cento se facciamo una preview prima le lettere salgono e dopo di nuovo tornano indietro e tutta questa animazione l'abbiamo fatta lavorando soltanto sul controllo durata animator bene adesso prima di terminare un paio di osservazioni ancora innanzitutto riportiamo la situazione del testo allo stato originale quindi eliminiamo sia l'animator sia i controlli che sono stati aggiunti dal text tool e quindi il testo ritorno alla sua situazione originale riaggiungo dal menu animate ancora la proprietà position seleziono l'animator e adesso ripeto l'operazione di cliccare sul bottone animazione caratteri benissimo a questo punto ho riaggiunto di nuovo tutti i controlli però come vedete qui nella palette al momento è ancora attivo il bottone animazione caratteri si nota che è ancora sottolineato da una riga azzurra quindi se per caso siete ancora in questa situazione e cliccate la barra spaziatrice credendo magari di far partire la preview come vedete è come se io avessi di nuovo ricliccato sul bottone animazione caratteri tanto è vero che mi ha aggiunto altri quattro nuove controlli e un altro expression selector qui e quindi per evitare questa situazione qui basta che immediatamente dopo aver cliccato il bottone animazione caratteri voi disattiviate questa palette e per farlo basta cliccare in un punto qualsiasi dell'interfaccia di after effects per esempio cliccate qui nel monitor a questo punto la palette non è più attiva e se cliccate la barra spaziatrice parte semplicemente la preview ma non si applicano di nuovo altri controlli benissimo quindi ricordatevi bene appena cliccato sul bottone animazione caratteri fate in modo di disattivare la palette prima di cliccare la barra spaziatrice ultimissima cosa è questo secondo bottone crea text box che serve a creare un rettangolo della dimensione del testo e funziona così basta che voi selezionate il livello di testo nella timeline poi cliccate il bottone e come vedete automaticamente viene creato un rettangolo cioè uno shape layer in questo caso bianco e perfettamente centrato con il testo e quindi nel caso vi servisse un rettangolo di sfondo al testo vi evita la fatica diciamo così di dover disegnare un rettangolo e poi centrarlo rispetto al testo benissimo quindi spero che questa palette possa tornare utile alle vostre animazioni ai vostri progetti e ci vediamo alla prossima ciao